Buonasera, passata l'una da cinque minuti, eccoci qui con l'ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo col dirvi che lo scontro politico all'interno della maggioranza è più vivo che mai. Oggi nuova discenda legata ai migranti, la Sea-Watch ne ha consegnati 18 alle imbarcazioni della Guardia Costiera. Con Salvini che alza la voce ha detto, Conte non pensi di darmi ordini, ma il clima è teso anche sulla famiglia, sulla sicurezza, sui voli di Stato e soprattutto sulle ultime vicende giudiziarie che riguardano gli esponenti della Lega. Non posso commentare la prepotenza e l'arroganza di questo tipo, che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere la Boschi. Con queste parole il vicepremier Pentastellato, Luigi Di Maio, commenta quanto detto da Salvini sul premier, in merito al caso Sea-Watch, una cosa è certa, aggiunge il capo politico del Movimento 5 Stelle. Questa prepotenza aumenta soprattutto sull'immigrazione, quando la Lega è in difficoltà con gli scandali di corruzione. Non ci sto a rappresentare questo grande stratagemma per distrarre dall'emergenza del Paese, che non è in questo momento l'immigrazione, ma la corruzione. Ecco cosa aveva detto il Ministro dell'Interno. Non c'è Presidente del Consiglio Ministro 5 Stelle che tenga, in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più. E lo aveva dichiarato appena dopo che dalla nave Sea-Watch, che comunque resta a largo di Lampedusa, erano stati trasferiti su una motovedetta della Guardia Costiera italiana 18 migranti tra bambini, madri e malati. Ma la posizione del Ministro dell'Interno non cambia. Nessun passo indietro sugli sbarchi. La Sea-Watch 3 non entra nelle acque territoriali italiane e i porti restano chiusi. Sono scesi solo bambini con i genitori o un malato. Secondo il Movimento 5 Stelle avremmo dovuto lasciarli morire in mare, se la pensa così non sono d'accordo. I 5 Stelle non gradiscono le parole di Salvini contro Giuseppe Conte e parlano di attacco maldestro. La giornata si chiude con un appello di Conte a tutti i ministri a mantenere toni adatti a chi rappresenta le istituzioni. Una manifestazione di solidarietà con docenti, studenti e ricercatori, ma anche le forze politiche si sono schierate in difesa della professoressa sospesa per 15 giorni a causa del lavoro di un gruppo e dei suoi studenti che avevano accostato alcune decisioni di Salvini all'operato di Benito Mussolini. Lo stesso Salvini si augura che la prof torni presto a scuola. Su uno striscione appare l'articolo 21 della Costituzione italiana sulla libertà di pensiero. Studenti, docenti, sindacalisti e rappresentanti dell'AMPI sono scesi in piazza per difendere Rosa Maria Dell'Aria. L'insegnante è sospesa per 15 giorni a stipendio dimezzato perché non avrebbe vigilato sui suoi studenti di un istituto tecnico che hanno fatto una ricerca accostando le leggi razziali al decreto sicurezza approvato dal Governo. Un paragone tra ieri ed oggi il pericolo di un ritorno al passato più buio, il rastrellamento del ghetto a Roma paragonato allo sgombero dei migranti nel cara di Castelnuovo, il censimento degli ebrei a quello dei Rom. È stata una loro ricerca sui diritti umani che non ha nulla contro il ministro dell'interno, sostiene la professoressa. È proprio l'immagine di Matteo Salvini con il decreto sicurezza in mano che viene mostrata in questa ricerca accanto alla foto del Corriere della sera l'indomani dell'approvazione delle leggi razziali. Salvini che dopo un iniziale duro commento ha morbidito i toni dicendo di voler incontrare Rosa Maria Dell'Aria. Una storia che ha sollevato molte polemiche politiche, con il segretario del PD Zingaretti che chiede l'immediato ritorno dell'insegnante di italiano al lavoro, il Movimento 5 Stelle che grida la censura. Il ministro leghista dell'istruzione Busetti da parte sua annuncia di essersi fatto inviare le carte a Roma per valutare la questione, ma ricorda come la sospensione sia stata una scelta autonoma dell'ufficio scolastico provinciale di Palermo. È stato arrestato dai carabinieri l'autista dello scuola Bus che si è rovesciato oggi sulla provinciale nei pressi di Arqua Petrarca in provincia di Padova. Dei 20 studenti a bordo tra i 7 e i 14 anni, 8 hanno riportato ferite, ma non preoccupano. Di sicuro hanno avuto molto paura, soprattutto perché l'autista li ha lasciati soli nel bus ribaltato senza prestare loro soccorso. Dopo una fuga per i campi durata un paio d'ore è stato catturato e è stato sottoposto all'alcol test. Risultato positivo, l'uomo di 51 anni di origini romene è dipendente di una cooperativa e secondo fonti del Viminale ha diversi precedenti. E sono invece stati condannati a 10 anni e 3 mesi di carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale, lesioni, rapine, furto. I quattro giovani marocchini che scatenarono il panico tra la folla in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno del 2017 spursando spray al peperoncino per derubare i tifosi che guardavano la finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid proiettata sui maxischermi. Per la folla impazzita e in fuga, lo ricordiamo, ci furono 1672 feriti e in seguito morirono due donne per le lesioni riportate. Ed è ancora caos per la vicenda Brexit. C'è stata la rottura delle trattative fra conservatori e laburisti. Era una delle opzioni su cui Theresa May contava di più per evitare il no deal e guadagnare del tempo con Bruxelles. Brexit, fine dei giochi. Dopo settimane di negoziati fra laburisti e conservatori per superare lo stallo, il leader dell'opposizione, Corbyn, ha staccato la spina con una lettera indirizzata al primo ministro May. Le discussioni sono arrivate fino a dove potevano arrivare. Le distanze politiche sono incolmabili e i laburisti non hanno nessuna intenzione di approvare il piano di May per l'uscita dall'Unione Europea. La tenuta della Premier sembra ormai agli sgoccioli. May ha promesso di indicare entro i primi di giugno la data delle sue dimissioni, ma non si astiene comunque dallo scaricare la responsabilità sulle contraddizioni all'interno del partito di Corbyn, diviso fra chi vuole attuare la Brexit e chi vorrebbe tenere un secondo referendum che potrebbe rovesciarla. E sullo sfondo resta la scadenza del 31 ottobre che la May aveva negoziato con Bruxelles con il paradosso delle elezioni europee alle porte in cui i britannici andranno a votare il 23 maggio per delle istituzioni che si accingono molto probabilmente a lasciare. Un sondaggio dell'organizzazione YouGov oggi conferma in testa il Brexit party di Nigel Farage con i conservatori solo in quinta posizione. Per il mondo del calcio la notizia del giorno è stata sicuramente il divorzio di Massimiliano Allegri come tecnico della Juventus. Dopo cinque anni insieme voltano pagina la Juve ed Allegri. I tre round di confronto fra le parti, quasi un mese dopo la conferma comunicata dal presidente Agnelli, subito dopo l'uscita dalla Champions, hanno avuto come conseguenza un addio consensuale. Consensuale al punto che i dettagli verranno svelati domani pomeriggio in una conferenza congiunta. All'origine dei dissidi le richieste da parte del tecnico di maggiori investimenti anche relativamente al suo stesso stipendio e l'intenzione di mettere sul mercato, fra gli altri, Di Bala e Douglas Costa. Si aprono adesso le ipotesi più fantasiose sia sul nome del prossimo allenatore bianconero sia sul futuro di Allegri. Decisiva potrebbe essere la finale di Champions visto che Pocettino e anche Klopp, attualmente sulle panchine di Tottenham e Liverpool, corrispondono perfettamente all'identichita del successore di Allegri. Un tecnico quindi che sia già pronto per tentare l'assalto alla Coppa più prestigiosa. E c'è anche una opzione autarchica rappresentata da Antonio Conte oppure Simone Inzaghi. Già oggi da Manchester è arrivato il no grazie da parte del tecnico del City, Pep Guardiola, mentre Didier Deschamps sembra volersi concentrare sulla nazionale francese. Per Allegri è allora possibile un anno sabbatico, ma alcune voci lo danno alla finestra per sostituire Thomas Tuchel al Paris Saint-Germain. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento.